Tischietto in bocca, si parte, è iniziata la quinta giornata del campionato Primavera 1 e la Sampdoria a giocare il primo pallone. Adesso sembra aver scambiato quasi la posizione con Leonardo, o Vallesanto, sino avanti, Leonardo passa con una magia, poi dal fondo mette in mezzo! E la Sampdoria trova il gol del vantaggio, è 0-1 il gol, è di Ofoma, avanti gli ospiti al 27, quella perde con Forte, allora attenzione alla ripartenza immediata della Cesena, ha cercato Perini, in avanti, esce e lascia la porta a Ceppi, calcia Perini! E la riprende subito Cesena! 30 secondi e 1-1! Batte forte, il primo pallone, Patrignani prolunga! Ed è 2-1 per la Sampdoria, il gol è di Giulio Patrignani! Castorri, altro cross, ancora verso Magnetti che va giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Cesena al minuto 89! Parte Covery, neutralizza Ceppi, poi ancora Covery, ancora Ceppi! Parata doppia del portiere della Sampdoria, si resta 1-2! Fischia 3 volte, Domenico Mirabella è finita, primi 3 punti, stagionali per la Sampdoria!